La seconda edizione del trofeo Taci comincia il Milan con Kakà. La cerchina rossonera è Kakà, Sedorf, Flamini, Tiago Silva e Inzaghi. Comincia Kakà contro Mochka. Parte Kakà. Milan avanti 4-3. Bello, ottima esecuzione. Tocca numero 5, Piscia della Nazionale Albanese. È entrato in campo nel secondo tempo. Va a sfidare Peruchini. È entrato in campo al posto di Zelico Calaz. Intanto la trasformazione da parte di Kakà. Parte Piscia. Fulmina Peruchini. Ora sarà Clarence Edorf. L'ora è un po' pericoloso questo Peruchini sulla traiettoria. Facciato con potenza. Pareggia il conto Piscia dopo il rigore di Kakà. Sedorf. Le sue finte. Battezzellato sbagliato Mochka. E dunque Milan di nuovo in vantaggio. Carlo Pelegatti. Sì, allora battono i rigori il numero 16. Adesso lo vedi poi il numero 20. Il numero 15 e il numero 2, Gian Paolo, per l'Albania. Grazie. 20-15-2. Villa, Becchiri, Vrapi. Tanto c'è Muzzaca sul dischetto. Autore del gol del 2-2 momentaneo. Parte Muzzaca. Schiazza nettamente Peruchini. Come adesso tutti molto bravi. Ora tocca a Flamini, poi Tiago Silva e Pippo Inzaghi a chiudere la cinquina. Vedremo se saranno sufficienti o se andrà oltranza per assegnare il trofeo Taci. Vinto a ottobre dall'Albania. Nella prima edizione. Sempre sul Milan. Per 2-1 in quell'occasione. Flamini contro Mochka. A parte Flamini. Assegno anche lui. Alla destra del portiere albanese. Ora numero 20, Villa, che ha segnato il gol del 2-1. Intanto il destro incrociare di Flamini. Villa contro Peruchini. Già segno con pisce. Muzzaca l'Albania. Villa a bersaglio sotto l'incrocio. Peruchini dall'altra parte. E ora Tiago Silva. Vediamo come se la caverà tra i 11 metri il difensore ex Fluminense. Un po' centrale questa rincorsa. Alla fine si sposta Tiago Silva. Va col destro. 4-3. Si diventa 7-6. Aggiungendo anche i gol nei minuti regolamentari. Ora tocca al difensore centrale Vrapi. Non è riuscito a staccare molto. Non è andato in volo. Quindi il portiere albanese aveva intuito bene. Palla a mezz'altezza di Tiago Silva. Ecco Vrapi che è rimasto in campo tutti i 90 minuti. Poi ci sarà Filippo Inzaghi. Va col sinistro Vrapi. Spiazza anche lui Peruchini. Filippo Inzaghi. Ora Inzaghi. Poi dovrebbe essere il turno di Bechiri. Che è l'altro centrale difensivo. Inzaghi incrocia. 5-4. Nemmeno un errore. Ora tocca al numero 2 Elvin Bechiri. Se segna Bechiri si andrà avanti fino a quando ci sarà un errore. Ancelotti già stava dando indicazioni. Il signor Taci sorride con Adriano Galliani. Che è colui che ha ideato questo trofeo. Parte Bechiri. Fuori. Il Milan vince il trofeo. Taci. Ai calci di rigore. 5-4. 8-7 il totale. Io ringrazio per la collaborazione Sebino Nela. Grazie a te Gian Paolo. I serventi a bordo campo preziosi di Carlo Pelegatti. Il coordinamento di Edo Sacchete. Tutto. Dallo stadio Kemal. Staffa di Tirana. Dunque il Milan che si impone. Il trofeo Taci. Seconda edizione. Noi possiamo chiudere da Tirana. Buona serata a tutti.